Ho iniziato molti anni fa con una laurea magistrale in filosofia, ho fatto un corso come direttore di struttura per anziani. Dopo cinque anni di lavoro in corsia a fianco di disabili e di persone non autosufficienti, ho avuto l'onore di aver affidata la start-up del complesso Bosco della Stella di Rigoli. Il mio ruolo all'interno di questa struttura è quello della direttrice gestionale, che si occupa appunto degli aspetti organizzativi e del rapporto con i 130 dipendenti. L'accoglienza delle famiglie che si trovano in un momento particolare della loro esistenza e in difficoltà rispetto alla cura di una persona anziana. E sicuramente l'iniziativa. Questo perché mi sono sempre sentita supportata dalla società in tutte le iniziative che abbiamo intrapreso in questi anni all'interno di questa struttura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.